ciao a tutti sei costantemente in guerra con il tuo peso e voglio dire stai cercando di perdere grasso ma non riesci a rinunciare ai cibi deliziosi che tu ci creda o no alcuni dei nostri cibi preferiti possono bruciare i grassi questo se li mangi con moderazione parliamo degli undici sorprendenti alimenti brucia grasso che non conoscevi ti piace il latte al cioccolato che ne dici di un caffè meglio iniziare a mettere più senape sui panini parliamo di tutto questo e di molto di più 1 senape la senape potrebbe essere un po piccante ma potrebbe anche aiutarti a scacciare quei chili di troppo gli scienziati dell'oxford polytechnic institute inglese hanno scoperto che mangiare un cucchiaino di senape può effettivamente aumentare il metabolismo fino al 25 per cento anche ore dopo averla mangiata non male come effetto 2 spaghetti di zucca gli spaghetti di zucca sono il rimedio ipocalorico per quando si ha voglia di spaghetti che sono una grande fonte di fibre sono importanti perché ti terranno più a lungo sazio o stazia e ti aiuteranno a non gonfiarti la pancia 3 latte al cioccolato il cioccolato colpisce ancora il latte al cioccolato a basso contenuto di grassi contiene in realtà 8 grammi di proteine peretto il che significa che se ne sorseggi un po prima e dopo l'allenamento dai al tuo corpo un sacco di proteine non è un segreto che il muscolo brucia più calorie del grasso e man mano che ci si allena si creano più muscoli è un bel ciclo vero basta fare attenzione a scegliere un latte al cioccolato che non sia troppo zuccherato 4 banane acerbe sbiasci chi mangiando una banana un po verde ok ascolta le banane acerbe sono ricche di amido resistente che è un tipo di amido che può passare attraverso l'intestino tenue senza essere digerito in sostanza finisce per contribuire a creare batteri intestinali sani il che porta a una sensazione di pienezza più duratura inoltre è presente l'amata vitamina b6 che come già sai è un nutriente che aiuta a convertire il cibo in energia 5 caffè il caffè è ottimo per far ripartire il metabolismo e finché lo bevi nero senza l'uso di aggiunte malsane e dolcificanti artificiali sei sulla strada giusta secondo uno studio pubblicato su physiology and behavior coloro che avevano bevuto caffè con caffeina avevano un tasso metabolico medio del 16 per cento superiore rispetto a quello di coloro che lo avevano bevuto de caffeinato 6 vino rosso bevi pure un bicchiere di vino rosso contiene resveratrolo un polifenolo altamente anti infiammatorio i cui benefici come la produzione di ormoni sani derivano dalle sue proprietà estrogeniche ce lo ha raccontato in un precedente articolo la fondatrice di blondie e coach della salute olistica annie lawless 7 formaggio fresco il punto chiave della ricotta è che aiuta a dormire la notte e secondo uno studio dell'american journal of clinical nutrition se non si dorme abbastanza è più probabile che il giorno dopo si facciano pasti più ricchi di calorie la ricotta è uno dei migliori alimenti da mangiare prima di dormire perché è fatta con proteine della caseina una proteina del latte a lento rilascio che ti terrà pieno o piena per tutta la notte quindi non c'è più bisogno dello spuntino di mezzanotte 8 burro di arachidi chi non ama il burro di arachidi non solo questo alimento di base dell'infanzia ha un ottimo sapore ma è il contenitore di moltissimi nutrienti a pancia piatta come i grassi monoinsaturi che aiutano anche ad abbassare il colesterolo e proteine 9 burro di mandorle se non sei un fan del burro di arachidi forse il burro di mandorle è il tuo preferito è un po' troppo grasso il che è una buona cosa perché non c'è bisogno di mangiarne una tonnellata per sentirsi soddisfatti ancora più importante uno studio pubblicato sul journal of the american heart association ha dimostrato che mangiare solo 30 grammi di mandorle al giorno ha portato a una riduzione del grasso della pancia e delle gambe 10 pepe di cayenna un altro colpo vincente del peperoncino questa volta è impressionante secondo uno studio pubblicato sull'american journal of clinical nutrition il consumo giornaliero di capsaicina uno dei composti che si trovano nel peperoncino accelera di fatto la perdita di grasso addominale in che modo beh aumenta la capacità del corpo di convertire il cibo in energia non solo ma il pepe di cayenna speziato secondo un altro studio serve a sopprimere l'appetito